Ben trovati per questo nuovo appuntamento di Giano su TVL, una puntata durante la quale incontreremo Nicola Gratteri, magistrato, procuratore capo di Napoli, da tempo impegnato nella lotta alla andrangheta. L'abbiamo incontrato in occasione della presentazione del suo ultimo libro Il Grifone, scritto insieme ad Antonio Nicaso, un libro nel quale si esplora il fenomeno dell'andrangheta, la sua condizione attuale e come si svilupperà nel tempo. Un incontro importante per capire dunque come il mondo sta cambiando, come la criminalità sta cambiando e incide nelle nostre vite, ma anche un'occasione per conoscere più da vicino questo magistrato. Dottor Gratteri, ben trovato, benvenuto. Con il professor Antonio Nicaso avete raccontato nel Grifone l'andrangheta che cambia, l'andrangheta che muta, un'organizzazione che si muove nell'ombra, che trama, fa i suoi affari, sembra quasi la spectre di 007. È un paragone azzardato? Noi abbiamo cercato in questo libro di raccontare quello che sta incominciando ad accadere e quello che accadrà. Abbiamo narrato la punta avanzata dell'elite delle mafie, cioè le mafie che fanno riciclaggio sofisticato attraverso internet e attraverso intranet, utilizzando le tecnologie costruite dagli hacker tedeschi, rumeni, assoldati dalle mafie, in particolare dall'andrangheta. È come un velo che si apre attraverso questo libro. Si guarda anche al futuro, perché non ci si può preoccupare di quello che sta accadendo oggi. Bisogna guardare i prossimi anni, perché la criminalità totale organizzata già lavora per il futuro. Sì, perché in quest'ultimo anno abbiamo visto un'accelerazione dell'utilizzo delle tecnologie da parte delle mafie. Abbiamo documentato transazioni finanziarie in 15 minuti che hanno interessato tre banche che si trovavano in tre continenti diversi. Questo ci ha un po' allarmato. Abbiamo visto hacker estrarre Bitcoin per conto dell'andrangheta, per conto della camorra. Noi, ad esempio, pochi giorni fa siamo riusciti a Napoli a sequestrare queste Bitcoin e trasformarli in Euro. Questi soldi sono già nella disponibilità del FUG, del Fondo Unico Giustizia. Quindi questa è la nuova frontiera per contrastare l'elite delle mafie, la nuova frontiera per pensare di quale tecnologia le nostre polizie dovranno essere dotate. Noi ci accomodiamo e cerchiamo un po' di capire da dove siamo partiti e a quindi dove stiamo andando. Va bene. Dottor Gratteri, quando è cominciato tutto? Quando l'andrangheta, quando la criminalità organizzata hanno iniziato a cambiare forma, a diventare qualcos'altro rispetto all'organizzazione delle origini? Possiamo dire che le mafie non sono una struttura statica. Le mafie mutano continuamente col mutare sociale. Le mafie mutano, seguono e inseguono i cambiamenti sociali, gli umori. Le mafie esistono perché hanno il consenso popolare. Quindi le mafie sono sensibili agli umori della gente. Altrimenti sarebbero criminalità organizzate, criminalità comune, gangsterismo. quindi non c'è un momento di stacco in cui possiamo dire che sono nate le mafie. Possiamo raccontare dei periodi, possiamo raccontare dei mutamenti, delle evoluzioni, ma uno stacco bianco-nero, nero-bianco no. E' più complesso. In questo libro c'è un aspetto che mi ha interessato, che forse potremmo catalogarlo come un aspetto di costume. La criminalità organizzata, l'andrangata in Europa, in Italia, negli Stati Uniti, lavora per codici. Nel passato potrebbero essere di fular, delle acconciature di capelli. Oggi questi codici sono cambiati, si sono tecnologizzati. Parla addirittura di una sorta di influencer della criminalità organizzata. Sì, noi possiamo intanto dire che le mafie hanno sempre, si sono sempre comportate come delle aziende. Le aziende per vendere hanno bisogno di pubblicità. Le mafie nella seconda metà del Novecento, per essere attraenti, per essere visti come modello vincente, compravano squadre di calcio. Si facevano vedere vicino in processione al prete o al vescovo. Questo perché erano visti come modello vincente, ad esempio in un paese dove non c'è nulla, dove siamo tutti agli ultimi posti. Il presidente, il capo mafia, compra una squadra di calcio, compra tre o quattro bravi giocatori, un bravo allenatore, quindi la squadra incomincia a salire. Allora tutti allo stadio. E allo stadio cosa vediamo? In tribuna la classe dirigente, il mondo delle professioni, che si complimente con il presidente della squadra quando segna il numero 9, quando segna il numero 11. Di fronte c'è la gradinata, c'è il popolo che guarda la classe dirigente, come si relaziona, come osanna il modello vincente che è il rappresentante del capo mafia. Oggi le mafie da una ventina d'anni stanno mutando, stanno usando i social, soprattutto la camorra, soprattutto i camorristi. Ma ancora di prima nel mondo, i primi ad usare i social per farsi vedere come pavoni colorati, farsi vedere come modelli vincenti, sono stati i messicani. Facebook, poi Instagram, ora TikTok. Cioè i giovani rampolli, i camorristi emergenti fanno vedere la macchina di lusso, l'oroggio d'oro, si fanno vedere vestiti luccicanti per dire a chi guarda TikTok che noi siamo il modello vincente, venite con noi, seguite noi per diventare, se volete diventare ricchi come noi. Sono gli stessi modelli che i nostri figli, i nostri nipoti, i modelli di tecnologie che utilizzano quotidianamente, cioè potenzialmente hanno in mano una bomba ai nostri ragazzi. Esatto, noi ormai un computer di ultima generazione più potente del computer utilizzato per fare l'atterraggio sulla Luna. Cioè oggi un telefonino è uno strumento vicidiale, in positivo e in negativo, perché attraverso il telefonino si può andare in internet, si può navigare dove internet è pieno di insidie. Ci sono pedofili, ci sono maniaci, ci sono venditori di morte, ci sono venditori di precursori chimici per costruire le droghe sintetiche, si vende droga, si arruolano killer, c'è il mercato della pornografia. Tutto il male lo possiamo trovare in internet, ma ancora di più noi vediamo che è nell'abisso. È quello che noi chiamiamo il dark web in qualche modo. Il dark web, quindi noi possiamo lì, sentiamo delle persone, sentiamo conversare, ma non riusciamo ad identificarle. Lei ha parlato di arruolamento, un aspetto che francamente è quasi banale, però lei ci dimostra anche con gli atti in questo libro insieme a Nicaso, che c'è una vera operazione di acquisto dei migliori cervelli da parte della criminalità organizzata. Cioè si cercano non più soltanto il killer o i personaggi che si occupano dello spaccio, di creare reti per lo spaccio di droga, ma chi lavora nel dark web per le transazioni digitali attraverso i bitcoin, ad esempio, quindi queste nuove forme di monete elettroniche? Noi abbiamo visto degli hacker rumeni in grado di fare transazioni finanziarie per milioni di euro. Noi abbiamo visto degli hacker arruolati da famiglie di indrangheta per estrarre bitcoin per milioni di euro. Noi abbiamo visto dranghettisti comprare cocaina con moneta elettronica, c'è abbondanza di moneta elettronica, è difficile trovare la chiave di criptazione per aprire e per sequestrare questa moneta elettronica, questo bitcoin o monero, però è la nuova frontiera che i nostri investigatori, se chi ci amministra intende investire in modo significativo nell'acquisto di tecnologia. Infatti mi domandavo se la criminalità, anche grazie al denaro e ai soldi che riesce a dare, può arruolare facilmente lo Stato, gli Stati riescono a fronteggiare questa gara che apparentemente potrebbe sembrare impari a livello di tecnologie, di preparazione, i tempi dello Stato sono molto più lenti. I tempi dello Stato sono più lenti, ma soprattutto i migliori hacker vengono arruolati dalle mafie perché le mafie le pagano 5-6 volte in più, gli ingegneri informatici, i maghi dell'informatica in Italia vengono pagati poco perché vengono parificati a degli impiegati medi, medio-bassi, come qualifica un ingegnere informatico guadagna 1800 euro, un'azienda privata guadagna almeno 5 mila euro. Figuriamoci in un'organizzazione mafiosa, in un'organizzazione criminale, quanto guadagnano. Lei ha parlato della Romania, non vorrei essere, non so se è una domanda azzardata, ma c'è una connessione tra l'est Europa e quindi questi paesi che dopo la caduta del muro di Berlino sono cambiati e quindi la specializzazione di questi paesi con la caduta del muro, quindi la dissoluzione dell'Unione Sovietica, c'è un collegamento? Intanto c'è una grande tradizione di Romania, in Romania già durante il regime di Ceausescu c'è un culto del studio della matematica e quindi alla Romania escono, sono usciti, sono formati grandi ingegneri informatici, quindi anche grandi hacker. Consideriamo che molte truffe online provengono da siti che si trovano in Romania o in Bulgaria. Non ci dimentichiamo che l'est europeo è un'area dell'Europa molto corrotta. Tutte queste combinazioni, tutti questi fattori messi assieme, portano a considerare questo aspetto dei paesi dell'est europeo come un pericolo. Questa mattina ero all'Istituto di Naudi a Pistoia dove lei si è trovato insieme a Nicaso per parlare agli studenti. L'ho visto scendere dalla macchina visibilmente stanco. Sì, perché siamo partiti stamattina alle 5 da Napoli. E' entrato in questa palestra, tantissimi ragazzi si è trasformato, sembra quasi che i ragazzi le diano energia. Sì, mi danno energia perché quando parlo agli adulti, certe volte mi domando se è tempo perso, perché gli adulti hanno fatto già le scelte di campo, anche dopo che hanno ascoltato me o Nicaso o tanti altri bravi colleghi, se sono onesti torneranno a casa onesti, se sono disonesti torneranno a casa disonesti. Parlare ai ragazzi invece non è mai tempo perso, i ragazzi sono una spugna. E se tu ai ragazzi parli col cuore, se tu ai ragazzi gli racconti episodi, gli racconti il vissuto, i ragazzi ti ascoltano. I ragazzi capiscono se tu sei di plastica o meno. Riescono a riconoscere la genuinità. E conoscere se tu stai parlando di te o ci stai facendo la lezione in Cina. Se tu stai facendo, stai raccontando, stai dando un messaggio, stai facendo un ragionamento e un percorso con loro. Quando parlavo di droga, quando parlavo di scuola, per me quel momento era delicatissimo, era uno snodo importante di tutto l'incontro. Il senso dell'incontro era quello di mettergli nella testa il tallo del dubbio. Era visto quando abbiamo parlato di droga, le cerve, anche erano tutti pronti. Era un argomento sensibile, un argomento che fa parte del loro quotidiano. E allora per me è stato un grande assist la domanda sulla droga. Mi è consentito di dire tante cose. Droga che, come anche voi spiegate nel libro, sta cambiando. Stanno quasi scomparendo le droghe tradizionali. E nel futuro ci saranno sempre più quelle sintetiche. Il fentanyl, che fino a pochi anni fa era un medicinale che veniva prescritto per antidolorifico e che sta diventando una vera bomba sociale, in particolare negli Stati Uniti, in Canada. Da noi ancora poco, ma sta arrivando. Allora, le droghe sono un problema che riguarda tutto il mondo. Non riguarda solo il mondo occidentale, ma anche la Cina. In Cina ci sono milioni di tossicodipendenti. Il futuro sono le droghe sintetiche perché costano di meno, perché è più facile reperirle, perché la produzione non è condizionata da fenomeni atmosferici. Se piove, se non piove, se nevica, se fa freddo o caldo, non importa, perché non dobbiamo aspettare i cicli della natura per la coltivazione dell'oppio o per la coltivazione delle piante di coca. Invece il futuro sono le droghe sintetiche, come ad esempio la cocaina rosa, che si produce soprattutto in Bolivia. Poi parliamo del fentanil. Il fentanil ha fatto più morti, nell'ultimo anno negli Stati Uniti, più morti nella guerra di Vietnam. Il fentanil è una droga spaventosa, detta anche la droga degli zombie, perché una volta assunta la droga le persone perdono il senso di orientamento, non riescono ad andare né avanti né indietro, né a destra né a sinistra, camminano curvi, con la testa piegata, appunto come uno zombie, e questa è una droga che sta per arrivare in Europa, sta arrivando in Europa. Già incominciamo a vedere i primi effetti dell'uso del fentanil. È un fenomeno preoccupante al punto che Biden, il Presidente degli Stati Uniti, come secondo argomento che ha trattato col Presidente della Cina, è stato proprio quello di bloccare l'esportazione dalla Cina del fentanil. Perché la Cina è uno dei luoghi dove c'è maggior produzione. È un maggiore produttore di droghe sintetiche. Lei quasi, tornando ai ragazzi, come un mantra, ho visto in diverse interviste, ed oggi anche a Pistoia l'ha ribadito, un'attenzione ai modelli, i modelli che arrivano attraverso le serie televisive, attraverso i film, attraverso i videoclip, i social media. Perché è così importante dare modelli positivi a questi ragazzi e il suo invito in diretto a chi poi fa informazioni, chi fa arte, anche attraverso il cinema, le serie, a dosare bene quello che è uno strumento che può plasmare letteralmente le coscienze delle persone. Ma intanto i giovani sono come le spugne, assorbono tutto. Allora io dico che noi adulti dobbiamo stare attenti quando parliamo o cosa facciamo. Cioè io stamattina, nelle domande, ho criticato la cinematografia che in un'ora di film mi fa vedere solo violenza. E quello è il male per i ragazzi. Perché se io poi la mattina dopo vedo davanti a una scuola media un ragazzino che si veste o cammino, che si muove o che si atteggia come il killer del film che ho visto la sera, per me è un disastro. Allora io penso che nessuno di noi vuole censurare l'arte. Però l'arte, chi fa arte, deve anche preoccuparsi di qual è l'effetto della sua arte sui giovani. Lei parla molto poco di se stesso, della sua parte più personale. E posso anche comprenderlo, vista la condizione in cui si trova a vivere. Nel 92 la morte di Falcone Borsellino, nel 93 anche lei, ho letto, ha subito degli attentati. Come ha vissuto quel momento della sua vita? Quando è morto Falcone mi trovavo nel carcere di Bologna a Dozza, stavo facendo l'interrogatorio, e non capivo cos'era successo. Sentivo rumori, stavamo facendo l'interrogatorio, sentivo rumori alle grate delle celle. Poi salgo in macchina, dopo un po' ha finito l'interrogatorio, salgo in macchina e accendo la radio e sento questa notizia terribile, sono rimasto di ghiaccio. Poi dopo meno di due mesi mi trovavo in procura, nella sala d'intercettazione della procura di Locri. Allora ero sostituto procuratore. E ho sentito questa morte di Borsellino, che non mi ha meravigliato. Quella di Falcone mi ha meravigliato perché Falcone ormai era fuori dai giri, era fuori dalla prima linea delle indagini. Falcone quando era a Roma aveva una scorta, diciamo, per semplificare, leggera. In Sicilia si adottava il primo livello, il massimo che c'era in quel momento, c'erano tre colonna blindate, viaggiava in aereo, di stato. Quindi giù si avvertiva questo pericolo. Invece poi per Borsellino tutti noi pensavamo che sarebbe stato ammazzato. E lui era il primo a dircelo, con la sua faccia, con la sua mimica, con i suoi racconti, con quell'intervista, quel manifesto di denuncia fatto nel chiosco di quel palazzo antico, quando ha urlato al potere, ai potenti, la sua rabbia. Diciamo che non è stata una cosa leggera. Chi è aderito allo stragismo è stato perdente, perché Rina si è dimostrato un cretino, si è dimostrato non luggimirante, perché un condottiero non è bravo se è feroce, un condottiero è brevo se ha una visione, se ha l'idea di portare i suoi adepti avanti, se è uno che programma da qui a 5 anni, da qui a 10 anni, questo è un condottiero. Infatti l'Andrangheta, ad esempio, non ha aderito allo stragismo, seppur diversi uomini di Cosa Nostra sono stati in Calabria, sono stati fatti alle riunioni per invitarlo ad aderire allo stragismo. Proprio perché l'Andrangheta invece aveva un'altra visione, un'altra filosofia, quella di infiltrarsi nella pubblica amministrazione, di entrare nei quadri della pubblica amministrazione attraverso la Santa, che era la prima dote della Suta Maggiore, che consentiva la doppia filazione, far parte dell'Andrangheta e della massone deviata, quindi avere contatti con i quadri della pubblica amministrazione e col mondo delle professioni. Dottore, ci avviamo verso la fine di questa intervista. C'è un aspetto, voi ne parlate nella parte conclusiva del libro, che riguarda più spiccatamente il futuro. Uno dei temi di questi mesi, possiamo dire, anche se in realtà è molto più vecchio, è quello dell'intelligenza artificiale, che oggi è associata al chat GPT, alla modifica dei volti, degli audio, quasi un gioco. come potrà essere sfruttata dalla criminalità organizzata, dall'Andrangheta che ci sta investendo tanto su queste nuove forme di tecnologie? L'intelligenza artificiale potrà, verrà sfruttata da tutti, dalla cosiddetta società civile, verrà sfruttata sul piano commerciale, sul piano economico, verrà sfruttata sul piano delle fake news, perché si riuscirà a costruire delle persone con la stessa timbro di voce che diranno cose fuori posto, che non corrispondono alla storia di un personaggio pubblico. E quindi poi ci vorranno settimane o mesi per spiegare che non era lui, che era una fake news, che era l'intelligenza artificiale, che ha costruito quel mostro. Io so già che alcuni scienziati che hanno fino ad ora partecipato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale sono scappati, si sono licenziati, perché gli faceva paura quello che è possibile fare già ora con l'intelligenza artificiale. Stephen Hawking in un'intervista di qualche tempo fa ma lanciava un monito all'attenzione di questo strumento. Immaginiamo tra pochi anni cosa può succedere. L'intelligenza artificiale sarà in grado di fare, di costruire anche, di raccontare, di fare discorsi politici, di raccontare analisi storie che sono diverse, poco simili rispetto a quelle della realtà. E quindi la società, il mondo, si troverà bombardato da notizie e continuamente il popolo si chiederà per ogni frase se quella è vera o è l'intelligenza artificiale. L'unica alternativa cos'è? Cercare di capire, aprire gli occhi prima? No, l'unica alternativa è spiegare, spiegare al potere, spiegare alla gente cosa può fare fin dove si può arrivare per capire la pericolosità e quindi trovare gli antidoti. Perché incominciare da adesso a parlare di censura è perdente. Oggi è quasi impossibile poter bloccare un documento. Poi puoi farti riconoscere a un tribunale una sanzione se ci troviamo davanti a un danno etico, d'immagine o morale o sul piano penale una diffamazione, una calunnia. Però attenzione, sarà molto difficile ancora trovare l'attribuibilità di chi è stato a costruire, a manipolare o a programmare quell'avatar. È un mondo da scoprire e da divenire. Dottore, grazie per il suo lavoro e anche per questo contributo che avete fatto. Buon lavoro di nuovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.